Nuova opinionista social al Grande Fratello, Rebecca, figlia d'arte con talento poliedrico. Prima di visionare il video, premi il pulsante iscriviti, e lasciami un mi piace. È importante per noi avere il tuo supporto. In attesa dell'ufficialità, il web si scatena. Apprezzamenti per Rebecca, ma chi rimpiange Giulia? Il prossimo Grande Fratello avrà una nuova opinionista social, e il nome che spunta è quello di Rebecca Staffelli, 25 anni, figlia di Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia, e Matilde Zarconi. Una giovane e talentuosa, con esperienze nel canto, nella danza, e nella recitazione. Dopo aver debuttato nel programma Colpo di Tacchi sulla 5, ha presentato Miss Universe Italy e recitato in Din Don 2, diventato poi una serie TV. Il suo passato da modella e la sua attuale esperienza come speaker radiofonica di Radio 105 la rendono una personalità eclettica, sempre pronta a comunicare. Al momento, il web è diviso tra chi apprezza la freschezza di Rebecca e chi rimpiange Giulia, ma quest'ultima proseguirà con i suoi progetti lavorativi e il programma Salotto Salemi sulla 5. Con un fisico aggraziato, occhi castani e capelli lunghi, Rebecca ha già presentato i live al Gifoni Film Festival 2023, mostrando la sua passione per la comunicazione e per il lavoro sul palco. La giovane e talentuosa si è detta focalizzata sulla salute, l'amore, la famiglia e gli amici nella sua vita privata, mentre per la carriera, la voce è il suo punto di forza essenziale. Sui progetti futuri, Rebecca mantiene il riservo, ma un'ottima idea sembra essere quella di prendersi una meritata vacanza. Nel frattempo, però, si prepara per il palinsesto estivo in radio, confermando di essere sempre pronta a tornare al lavoro grazie alla sua instancabile energia. Il grande fratello si arricchisce così di una nuova personalità, e il pubblico non vede l'ora di scoprire quale sarà l'apporto di Rebecca Staffelli al famoso WeHow di Show. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like o un commento e condividere con i vostri amici. Ci vediamo alla prossima. Ciao!